In una calda notte tra il 24 e il 25 agosto di 30 anni fa, Jerry Esan Maslow, rifugiato politico riconosciuto dall'ONU, non aveva compiuto ancora 30 anni quando fu assassinato da quattro criminali che erano andati nel campo per derubare i braccianti. Dormiva in un casolare di roccato nelle campagne di Villa Literno, su un ammasso di cartoni insieme ad una trentina di connazionali del Sudafrica, da dove era arrivato dopo anni di persecuzione per apartheid. Qualcuno reagì quella notte e cominciò una colluttazione. Uno dei rapinatori gli sparò tre colpi di pistola. In quella campagna di pomodori, dove Jerry e gli altri venivano sfruttati per mille lire al giorno, morì anche il suo sogno di rifarsi una vita. La morte di Jerry è stato anche un po' l'inizio di un cambiamento. La notizia dell'assassinio del giovane sudafricano colpì il paese, che ancora non era anestetizzato dalla propaganda razzista. Ai funerali che andarono in diretta sulla RAI parteciparono anche esponenti del governo e l'allora vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli si fece promotore di una legge che ha cambiato la vita di molti migranti che venivano da paesi che non erano dell'Unione Europea. Da quel momento in poi hanno potuto chiedere asilo politico. Eppure, in trent'anni, sembra che la situazione dei braccianti stranieri non sia affatto cambiata nei campi. Come ogni anno, ci sarà una cerimonia di commemorazione, l'appuntamento alle 17 di sabato 24 agosto al cimitero di Villa Literno, dove una delegazione di italiani e stranieri provenienti da Roma, Napoli e altre città darà luogo ad una marcia silenziosa alla fine della quale la comunità di Sant'Egidio, i sindacati, le associazioni e le autorità locali ricorderanno il sacrificio di Gerry Maslow.